Onorevole Zeretti, buonasera, ultimi giorni per la firma degli otto referendum promossi da Possibile.com, ovvero da Pippo Civati. Allora, se sui referendum relativi alla democrazia, al diritto di scelta dei cittadini, i nominati, eccetera, eccetera, nulla a questi, io sull'ambiente ho qualche perplessità. Un paese come il nostro, che non ha risorse energetiche sufficienti, perché dovremmo essere contrari alle trivelle in mare e a tutta questa cosa? Intanto va detto che bisogna invitare tutti i cittadini a venire a firmare quanto prima i referendum, perché sono gli ultimi giorni di raccolta e questo significa che tutti coloro che sono interessati devono venire a firmare, oggi a Frascati, anche nelle sedi comunali. I referendum sono molto importanti perché mettono insieme tante questioni che in questi mesi sono stati oggetto di battaglie parlamentari, a cominciare dalla vicenda delle battaglie per la democrazia alle questioni fondamentali che riguardano l'ambiente. Perché? Il referendum sull'ambiente. L'Italia è un paese che ha bisogno di energia, ma è un paese che ha bisogno di energia pulita. Oggi, proprio nel prossimo mese, si aprirà la conferenza sul clima a Parigi, dove si deciderà che è necessario aumentare la produzione di energie rinnovate. L'Italia deve fare questa cosa, l'Italia è il paese del sole, l'Italia ha tanta energia da questo punto di vista e la deve sapere sfruttare. Non ha bisogno di sfruttare le poche risorse petrolifere che ha, perché, come è noto, anche se si sfruttassero tutte le risorse petrolifere nel nostro paese, coprirebbe soltanto il 4% del bisogno nazionale. Questo 4% è facilmente raggiungibile anche attraverso una saggia politica di risparmio energetico. Contemporaneamente le drivali in mare significano meno trismo, significano problemi di inquinamento maggiori e quindi i costi sarebbero assolutamente maggiori rispetto ai benefici. Quindi credo che i referendum siano tutti importanti e sia stato giusto metterli tutti insieme in un unico pacchetto. Per questo io spero che si possano raggiungere 500.000 firme, dobbiamo dare tutti quanti un contributo. Però l'Egitto ci insegna che così, all'improvviso, si potrebbe scoprire un giacimento che magari di gas, che inquina meno, che gira le sorti del paese. Non è così, perché non è che improvvisamente si possano trovare immense fortune o immense giacimenti, perché il nostro sottosuolo lo conosciamo bene, quali sono le potenzialità del nostro sottosuolo e conosciuto non da adesso ma da decenni. Quindi non è questo il punto. Oltretutto anche i giacimenti come quelli che si trovano in Egitto sarebbe opportuno cercare di ragionare in modo diverso. Il pianeta non può più sostenere questo tipo di capacità di inquinamento, di carbonizzazione, perché sta creando ovviamente dei turbamenti climatici che sono sotto gli occhi di tutti, i quali cambiamenti climatici stanno determinando delle catastrophe anche nel nostro paese. È necessario cambiare indirizzo e per cambiare indirizzo è necessario produrre energia pulita. Per produrre energia pulita bisogna farla attraverso il vento, attraverso il sole. Quindi l'incremento di queste energie è possibile e è quella la stata che noi dovremmo portare. Un'ultima domanda. Ma questi referendum sono un esercizio di democrazia per poter dire che noi siamo democratici oppure è democrazia sostanziale? Perché noi nel millennio passato, anzi nel secolo passato, abbiamo firmato dei referendum per l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Poi la politica che cosa ha fatto? Cambiato nome. Ma i referendum sono stati l'unico aspetto nel nostro paese che ha determinato dei cambiamenti reali. Se pensiamo al referendum sull'aborto, se pensiamo al referendum sul nucleare, se pensiamo al referendum sull'acqua pubblica, se pensiamo al referendum sul divorzio, il primo che c'è stato nel nostro paese. Gli unici momenti di svolta che ci sono stati nel paese è quando si è potuto celebrare il referendum e questi del referendum hanno avuto la maggioranza del quorum richiesto. Quindi io per questo penso che facciamo bene a utilizzare questo strumento di partecipazione diretta, perché direttamente i cittadini possono dire che cosa pensano sul problema dello sblocco Italia, delle trivelle. Oltretutto il referendum sulle trivelle è stato già richiesto da cinque consigli regionali e quindi sicuramente quel referendum sarà celebrato il prossimo giugno. Le questioni legate alla democrazia e alla partecipazione, io penso che sia un'iniziativa importante che noi dobbiamo sostenere attraverso la nostra firma, se i cittadini non partecipano ci sta bene la democrazia, non c'è più democrazia. Benissimo, allora diciamo che per chi crede in queste cose, ultimi giorni, ultime ore, eccoci qui. Grazie.